Fuoco alle parole presenta I selvaggi della Papuasia di Emilio Salgari, letto da Alberto Zuccoli. Buon ascolto! In sul finir del giugno del 1864, il brigantino olandese Larlem era partito da porto Selangau nell'isola Mindanao, diretto per la Nuova Zelanda con un carico di farina di segù, sostanza estremamente alimentare, estratta dalla midolla di un albero assai diffuso in tutta la Malesia orientale. Era una bella nave, varata appena da un anno sui cantieri di Batavia, salda di costole, alta di bordo e di alberatura, come si conviene a navi destinate alla navigazione del Pacifico, ben attrezzata, meglio equipaggiata e della stazzatura di un 300 tonnellate. La montavano 16 uomini, ciurma un po' numerosa per un legno sì piccolo, ma indispensabile per quei viaggi sempre pericolosi. 16 marinai nel più puro senso della parola, amanti del loro mestiere e della loro nave, il cui coraggio e le cui forze erano state più volte messe a dura prova. La comandavano il capitano Van Nordom e il secondo Asten, due galantuomini che contavano più viaggi che capelli, che avevano naufragato tre volte scampando miracolosamente alle onde e più di tutto al dente dei cannibali, due tipi di lupi di mare che, al contrario degli altri, amavano gli agi della vita e che si davano bello spasso. L'un fatto per l'altro, entrambi sotto la quarantina, nativi Denkoizen in Olanda, abbastanza ricchi per non avere mai fretta. Erano i miglior comandanti che avessero a desiderarsi i marinai del brigantino. Mai gran fatiche, sempre in vista di terra finché era possibile per sbarcar qua e là a comprare viveri freschi, occupati a pescare o a banchettare, con la scusa di brindare all'Arlen o a Enkoizen. E che banchetti! I due comandanti, da veri amatori, avevano sempre un bel posticcino a bordo, occupato da una grossa botte e ben piena di vino di Spagna, un altro bel barilotto di rum, che aveva sempre la pretesa di venire dalla Giamaica, una bella provvista di bottiglie del reno e una dispensa riboccante di viveri, senza dimenticare galli e anatre, che ruzzolavano da mane a sera e da sera mattina sul ponte, sotto il rollio. Come si disse, l'Arlen aveva spiegato le vele in sul finir di giugno, con un buon vento da nord-nord-ovest, prendendo bravamente la via del sud. La navigazione in sul principio era stata alquanto burrascosa per i venti dell'ovest, che toccando l'astro erano venuti a contrariare un po' il cammino e a sollevare il non troppo pacifico oceano. Ma poco a poco tutto si era calmato e l'Arlen a tutte vele spiegate, senza dimenticare coltellacci e scopamari, aveva preso una rapida andatura non minore di quattro o cinque nodi all'ora, lasciando agio all'equipaggio e ai due comandanti di spassarsela con frequenti libazioni, bei banchetti e serenate ai chiaro di luna. Il 3 luglio aveva di già lasciato di buon tratto a Poppa, l'isola di Mauges, dopo essersi arrestato alcune ore a farvi la compra di una mezza dozzina di piccoli animali, così abbondanti in quelle terre, e di aver fatto ampia provvista di frutta. Il 9 anche Salibado era stata cacciata a Poppa e il 13 l'Arlen era giunta a Mortei, isola magnifica del gruppo delle Malucche, situata all'estremità nord-est di Gilolo, dove erasi arrestato per rinnovare la dispensa di carne fresca e per completare il carico con certe stoviglie rosse che il capitano Van Norden contava spacciare con grosso guadagno alla Nuova Zelanda. La navigazione era stata ripresa sempre con buon tempo e mare sufficientemente tranquillo, tanto da non mandare a male le serenate, con rapidità bastevole per giungere sette giorni dopo sotto il centocinquantesimo meridiano, in vista della Papuasia o Nuova Guinea, come la chiamò l'italiano Renzi nel 1826. Una grande isola di 38.000 leghe geometriche di superficie, vale a dire di un'estensione uguale alla Francia, Belgio e Svizzera unite, malissimo conosciuta e i cui indigeni hanno la mania di essere un po' troppo insocievoli, un po' troppo selvaggi e di prendere a certi gusti che si direbbero da antropofaghi. Il capitano, che l'aveva visitata qua e là, approdando a Doré e alla Baia di Gilving, contava di fare una gita alla prima calma in sulla costa a dispetto dei Papuas, per provvedersi di quei bei frutti d'albero del pane che potevano supplire con vantaggio i biscotti di bordo e i pani di segù, e di far ampie messe di noci di cocco dall'acqua fresca e zuccherata, senza dimenticar banani, durion e latanieri, frutta di cui andava molto ghiotto. Per quattro giorni l'Harlem veleggiò in vista di quelle non troppo ospitali coste, passando di tratto in tratto dinnanzi a villaggi, situati su palafitte piantate nell'acqua per difenderne gli abitatori dalle sorprese degli alfuras, loro nemici, e dalle bestie, accolto ovunque con un grido poco rassicurante e da pioggia di fiambole fortunatamente sempre lontane. Il vento continuava a essere propizio e tutto pareva che dovesse andare a meraviglia, quando il 22 dello stesso mese avvenne un incidente, che doveva finire con riuscire fatale al povero brigantino e al suo intero equipaggio. Scadeva l'onomastico del capitano Van Nordom. Secondo l'abitudine, si era deciso di festeggiare il meglio che fosse possibile un tal giorno, tanto solennemente riguardato dagli olandesi, con un bel banchetto, innaffiarlo con torrenti di generoso vino di Spagna, un barile di rum e una piramide di bottiglie di vin del Reno, terminando il tutto con una magnifica serenata. Sin dal mattino, i marinai che già fiutavano fumanti arrosti, sotto la condotta del secondo Asten, si erano messi all'opera per decorare la nave onde riuscissero più imponenti i brindisi che contavano di fare, tanto più che il vento era scemato sensibilmente e che il brigantino batteva a meno di due miglia una costa assolutamente deserta. Frugando qua e là nelle casse, avevano tratto nastri vecchi e tele colorate, qualche fiore artificiale e fasce rosse, che si erano affrettati a stendere sulle griselle, lungo i paterazzi, sulle murate, assieme a una ventina di lanterne che, mancando di vetri, avevano ricoperte di carta rossa, verde e azzurra, oliata, e con le quali contavano di improvvisare una illuminazione. Tutte le bandiere dei segnali, assieme alla gran bandiera olandese sul picco della randa, a mezzodì sventolavano con effetto magnifico. Il capitano, grandemente soddisfatto di quei preparativi, non si era tenuto indietro e, aperta la dispensa, aveva fatto caricare pentole ramini di polli, carne fresca di maiale, di pesci, bandendo la carne salata, unendovi frutta secca, pasticci improvvisati alla meglio con tutti i poveri ingredienti di bordo. Preparato alla meglio un tavolone fra il trinchetto e il maestro, nel mezzo del quale faceva bella mostra un grosso barile di vecchio vin di Spagna, alle due si era cominciato allegramente il pranzo, dimenticando Larlem che se ne stava quasi immobile fra una caluria, cominciando con bottiglie di rum. Non è a dire come si mangiò e si bevette da parte di quei lupi di mare che possedevano indistintamente un appetito colossale da dar dei punti allo stesso Gargantua. Era sera che erano ancora seduti a tavola al chiaro delle venti lanterne, bevendo senza più numerare le tazze, mescendo vino e liquori, brindando al capitano e all'Arlem, vociando, urlando, dimenandosi in mille guise. Più che a metà brilli, mentre che il brigantino, abbandonato a se stesso, filava senza saper dove, rollando vivamente e minacciando di andare attraverso le scogliere della costa. A mezzanotte, il vento, levatosi al cadere del sole, soffiava con qualche violenza, sbattendo vivamente le vele, mentre il mare si sollevava sbattendo con forza il brigantino che si precipitava da babordo a tribordo. Quei soffi, la presenza della costa che poteva avvenire improvvisamente sottostante alla profonda oscurità, il mugito del mare che frangevasi furiosamente sulle scogliere, richiamavano in sé i meno ubriachi, fra i quali il capitano Van Norden, che si affrettò ad abbandonare la tavola per slacciare la velatura e correre al timone, la cui ribolla, spezzato il frenello, tempestava le murate. Non avevano ancora ammainato i pappafichi e i contropappafichi per ridurre la velatura, che un fragore formidabile si udì quasi repentinamente sul tribordo, quasi da credere che lì sotto si trovassero delle scogliere. Il capitano Van Norden, inquieto e pentito di aver abbandonato troppo a sé stesso il brigantino, fu in un salto alla murata, curvandosi per cercare di discernene qualche cosa, malgrado la fitta tenebra, resa maggiore da certi nuvoloni che andavano coprendo il cielo. Van vide nulla o perlomeno credette di non vedere nulla, solo gli sembrò che la costa si disegnasse a poche gomene dalla nave. Non amando trovarsi si presso, sapendo quali scogliere circondavano quelle terre, paventando quei fragori che nulla avevano di rassicurante, ordinò di tornare al vento tracciando sul tribordo. La manovra non era difficile, mai grado al violento rollio, ma i marinai, che in altri tempi lo avrebbero eseguito in meno di cinque minuti, brilli come erano non ne vennero a capo che dopo mezz'ora e a furia di bestemmie. Quel ritardo fu fatale per il brigantino. Un nuovo fragore si udì questa volta a babordo, uno sbatter di onde, un urlio, quei fragori ben noti che producono le acque nate sulle scogliere. Non vi era più dubbio. Il brigantino si trovava fra i frangenti, trascinatovi durante la baldoria dal flutto e dalle correnti. Lo sgomento cominciò a impadronirsi di quegli ubriachi che si credettero perduti. L'harlem rollava spaventosamente fra la risacca, fra una doppia fila di scogliere che alzavano la testa annerita dalle onde, attorno alle quali urlavano le acque spumeggiando. Il capitano, che conservava ancora un po' di sangue freddo, fra l'ubriachezza, tentò di ricondurre la nave al largo, cercando di passare fra un varco lasciato dagli scogli, ma non vi riuscì per la poca profondità del mare. Di più, l'equipaggio, perduta la testa alla presenza del pericolo, manovrava confusamente, non comprendendo più i comandi, correndo ai bracci di tribordo anziché a quelli di babordo, imbrogliando un velaccio invece di una gabbia, compromettendo sempre di più la sicurezza del brigantino, che viaggiava a dritta e a manca, or beccheggiando e or rollando, avanzando e indietreggiando, minacciando a cozzarsi sulle scogliere, che pareva moltiplicarsi a prua e a poppa. A un'ora dopo la mezzanotte, l'Harlem era ancora fra i frangenti. Il capitano, in vano, bestemmiava, comandava, gridava, aiutato dal secondo un po' meno brillo degli altri, che si adoperava tutta l'ena alla ribolla, orzando o poggiando. La risacca si faceva maggiormente violenta, le scogliere sempre più numerose. Muggiti, crepitii, urla, comandi affannati, imprecazioni si confondevano in una medesima voce. Alle due il brigantino cozzò all'anca di tribordo, frantumando i pennoni dell'albero di maestra, contro una rupe che cadeva a piomba sul mare da un'altezza di cento piedi. Fu un momento di terribile angoscia, ma fortunatamente un colpo di vento lo tolse di là, sospingendolo innanzi. Errò per mezz'ora fra i frangenti, cercando uno sbocco qualsiasi, scandagliando qua e là. Poi avvenne un secondo caso, indi un terzo. Finché, sollevato da un'onda, un quarto più terribile degli altri tre. L'urto fu sì violento che l'equipaggio fu rovesciato in coperta e che il buon presso si spezzò. Il carico si spostò tanto che l'Harlem, preso dalle onde, inchinossi crepitando sul babordo, quasi da credere che si rovesciasse tutto, lasciando adito alle acque di invadere da un capo all'altro la coperta. La confusione a bordo fu al colmo. Ancora mezzo ubriachi, spaventati da quell'inclinazione, da quelle onde che saltavano sopra le murate, da quegli schianti dell'alberatura che pareva fosse lì lì per ruinare in coperta, i marinai si erano messi a correre qua e là completamente smarriti, affollandosi attorno alle due imbarcazioni, cercando di calarle in acqua, cosa veramente impossibile con una tale oscurità e con una simile risacca. Fortunatamente che i due comandanti erano là. Respingendo gli uni, atterrando gli altri, minacciando, bestemmiando, giunsero a sedare un po' quella confusione che comprometteva la vita di tutti. L'Harlem era quasi arenato, tuttavia nessuna via d'acqua pareva essersi aperta nei suoi fianchi, malgrado la violenza dell'urto, e poteva ancora darsi che si potesse riporlo a galla. Non è a descrivere come i disgraziati passassero il rimanente della notte. Il mare non cessò un solo istante di saltare a bordo sul tribordo, spezzando le murate con le sue ondate furiose. Malgrado ciò, il brigantino, fortemente incagliato sul suo banco di sabbia, non si spezzò, né fu demolito, come a prima vista si era creduto, tanto da sperarne che il mattino, con qualche ancorotto da bordo e con la manovra dell'argano, si avesse ancora a farlo galleggiare. Vi furono allarmi, paure, ma niente più. L'equipaggio, man mano, sentiva sfumare l'ebrezza, ribigliava animo e coraggio. Ai primi albori ogni paura era scomparsa, almeno quella di un naufragio imminente. Il capitano si affrettò a visitare il bastimento e rendersi conto della minuta sua posizione e della situazione. L'Harlem era sì arenato su un banco sappioso a meno di mille passi dalla costa, di fronte a un fiumicello, circondato per ogni dove da scoglietti che si allargavano a modi molteplici corone. Non poteva si credere che fosse perduto. Con un po' di pazienza, alando al mulinello, dopo aver gettato alcuni ancorotti al babordo e gettato buona parte del carico, approfittando dell'alta marea, si poteva ancora scogliarlo. Esaminata la costa, che appariva boscosa, ma, a quanto pareva, deserta, diede il comando di mettersi subito all'opera, non nascondendo un po' di timore per la vicinanza di quell'isola tutt'altro che ospitale. L'equipaggio rassicurato non perdette un istante. Si cominciò a lacrimente a lavorare allo scarico, aprendo il boccaporto e gettando in mare il segù, lavoro faticoso se si pensa fatto sotto un calore torrido, ma di cui nessuno osò lagnarsi. Ufficiali e marinai lavoravano di comune accorto e già tutto induceva a credere che si sarebbe riusciti a riporre a galla l'Harlem. Quando, verso le dieci del mattino, il secondo mozzo, che si era arrampicato fino alla caffa dell'albero di maestra per ammainare il velaccio, segnalò una flottiglia di sei piroghe che, uscendo dal fiumicello, muovevano verso il brigantino. Una simile vista non poteva essere che pericolosa, conoscendo per di più l'audacia di quei popoli rivieraschi e i loro istinti abominevoli, sicché, a tale nuova, ognuno si affrettò ad abbandonare momentaneamente lo scarico e a pensare di prepararsi contro qualsiasi sorpresa. Il capitano Van Nordom credette bene di prendere serie misure aprendo l'armeria e portando sul ponte moschetti, sciabole, scuri e coltelli, che fortunatamente abbondavano, assieme a un rotto di polvere e a una provvista di palle. Non avevano ancora finito che la flottiglia era già in vista. Come aveva detto il secondo, si componeva di sei piroghe, scavate nel tronco di lunghi alberi, di forma pesanticcia, ornate qua e là di rozze sculture e armate da un buon numero di coste pagaie. Le montavano una sessantina di indigeni dalla faccia piatta, dagli zigomi prominenti, la bocca grande, labbra grosse a somiglianza dei neri, naso schiacciato e dalla tinta bruna oscura. Non avevano vesti di sorta, eccetto i coranos o capi, che portavano certi crinolini vegetali dipinti a colori vivaci, ma erano carichi di ornamenti di penne d'uccelli del paradiso, di collane di denti di cinghiale, di anelli di rame, di braccialetti, di conchiglie, di scaglie di tartaruga e di lunghi quanto strani pettini cacciati nelle loro folte capigliature. Alla vista del vascello arenato, parvero raddoppiare l'ardore e più di uno alzò con un gesto tutt'altro che rassicurante il suo coltellaccio che essi chiamavano parang, la zagaglia o la spada di rame. Il loro numero, le loro grida arauche, quel vociar, quell'alzar d'armi e la furia con cui avanzavano, erano cose da impensierire seriamente il capitano van Nordom, che ne aveva udito con tardi belle delle prodezze di quei papuas. Però, temendo che cominciando col prenderli a fucilate, potesse essere peggio, si accontentò di raccomandare vigilanza ai suoi e di disporli sulle murate di Tribordo, il luogo che poteva offrire più facilmente la scalata, stante l'inclinazione del brigantino. La flottiglia non tardò a capitare. In sulle prime, quei sessanta o settanta guerrieri si accontentavano di mostrare archi, frecce, coltellacci, spadacce e zagaglie, vociando e scalmanandosi, girando e rigirando attorno al vascello, per nulla spaventati dall'equipaggio, che si forzava a allontanarli minacciando quei moschetti. Poi, incoraggiati da quell'inutile gridare dei bianchi, si fecero più arditi. Qualche fronda colpì qualche marinaio, poi qualche freccia e finirono con raccogliersi sotto il tribordo del vascello, tentandone audacemente la salita. Il capitano arrischiò un colpo di moschetto che fece capitombolare uno dei capi, ma era troppo tardi. I selvaggi, anziché spaventarsi, parvero prendere più audacia, arrampicandosi lungo le sartie, aggrappandosi alle bancacce, sostenendosi con nembi di frecce e una pioggia di fionde, urlando spaventosamente, digrignando i denti, agitando le armi in un baleno, furono sul ponte, malgrado l'ostinata difesa dell'equipaggio, che faceva strage a colpi di scure e di moschetto. In men che non si dica, 60 guerrieri sono a bordo dell'Harlem, pronti a fare un massacro dell'equipaggio, che ridotto a 13 uomini, guidati del capitano Van Nordom, respinto a poppa, stava per aprirsi un barco cercando di salvarsi nelle imbarcazioni. Si ode un urlo formidabile, cui rispondono le detonazioni dei moschetti e le tonante voce dei due comandanti, che con una sciabola nella dritta e una pistola nella sinistra, gridano «Avanti per mille tuoni! Giù tutti! A scure alzata! Animo per Dio! Animo!» I marinai irrompono con slancio disperato fra la massa urlante dei papuasi, che li accolgono sulla punta delle zagaglie e a colpi di parang. I primi cadono sventrati, ma gli altri saltano innanzi martellando a colpi di scura a dritta e a manca, urlando come una legione di demoni, spaccando teste lanute dalle quali schizzano le cervella assieme a torrenti di sangue, fendendo petti, smozzando braccia, troncando gambe, cacciando le armi nella massa carnosa, tirando pistolettate sul muso dei più furiosi, cadendo e rialzandosi, incoraggiandosi con la voce e con l'esempio. Ne succedette un macello. D'ambo le parti, bianchi e papuasi, si battevano con egual furia, soffocando con urla le disperate invocazioni dei morenti, aggrappandosi l'un l'altro, tentando rovesciarsi, facendo uso dei denti, dei pugni, delle unghie, quando le armi tornavano inutili, ondeggiando qua e là a seconda degli attacchi, calpestando orribilmente i feriti che andavano con un ultimo sforzo, troncando le gambe del nemico. La lotta, in breve istante, divenne terribile con l'apeggio dei bianchi. Il secondo Asten cadde con la testa spaccata da un colpo di parang, il mastro col volto fracassato da un colpo di mazza, due a destra, tre a manca, sventrati a colpi di zagaglia. Non era più possibile sostenersi. Ammazzavano, ma ce n'erano sempre di freschi dietro ai caduti, che si facevano sotto mugolando come tigri, menando disperatamente le mani. I marinai si difendevano con le scure, coi coltelli, con le baionette, da gente animosa che vende cara la vita, ma cadevano ad uno ad uno. Il capitano Van Nordom, dopo aver fatto prodigi di valore ed essersi battuto per due, respinto dall'onda dei combattenti, aveva finito con ridursi sul cassero, circondato da tre papuasi che l'assordavano, tempestandolo a colpi di parang. Munito di uno sciabolone dal rembaggio e di una pistola, vedendo che la era finita, se non trovava modo di nascondersi o di prendere il largo e che nessuno, eccetto i tre, badavano a lui, raccogliendo le forze, si scagliò sugli urlatori. Spacca la gola al primo, tira un colpo di pistola al secondo che rotola a gambe levate sul ponte, riceve un colpo di lancia che gli lacera lievemente la pelle del volto e caccia dieci pollici di lama nel ventre del terzo. L'ultimo non era ancora caduto che si getta nella cabina, mentre i suoi, stretti per ogni dove, cadevano sotto il ferro dei selvaggi. Non ebbe nemmeno l'idea di chiudere il boccaporto e già si credeva alla sua volta perduto, preparandosi a una disperata difesa, quando gli balenò un pensiero. Sollevò in fretta e furia il paiolato, che lasciava un ripostiglio appena sufficiente per riceverlo, ingombro di pomi di terra e di cipolle, e approfittando dell'occasione vi si nascose, seco portando un paio di pistole, onde servirsene per ogni evento. Aveva appena posto sopra di sé il paiolato, accomodandolo il meglio che fosse possibile, che odì i selvaggi scendere fociferando nella cabina, sollevando i coperti delle casse e trarne vestimenta, con le quali contavan sicuramente di far bella mostra al ritorno. Sfondar barili e barilotti, trar cassetti e manipolar l'oro e l'argento, spezzando scatole, bottiglie e tracannar avidamente oli, vini e liquori, non sospettando certo che sotto di loro ne stava il capitano. Non è a descrivere le ansie, i timori, le paure del povero Van Nordom, rannicchiato nell'angusto e oscuro nascondiglio, tutto tremante dalla tema di venir scoperto, soffocato, accecato dai liquori che gli piovevano addosso, che i bruti, di già ubriachi, lasciavano cadere. Li udiva pestare i piedi, lì, proprio sopra la sua testa, piegando le tavole a segno da schiacciarlo. Li udiva urlare ingollando le bevande spiritose, spezzare, frantumare, tutto saccheggiare, disperdendo giornali, note, penne, calamai, bussole, viveri. E sopra coperta si udiva il grosso dei saccheggiatori vociferare, capitombolare nella stiva, dimostrando con insensati clamori la loro gioia alla vista di tanta massa di segù e alla vista di tanto ferro buono per i loro arnesi da guerra. Il supplizio durò fino al calar delle tenebre, senza che osasse muoversi e trattenendo spesso il respiro, fino a che tutti quei clamori andarono gradatamente facendosi più fiocchi, fino a cessare del tutto. Il disgraziato capitano van Nordom, non sapendo che succedesse, in sulle prime non ardì sollevare il paio volato. Ma poi, assicurato del silenzio che regnava a bordo, rotto solamente dal monotono sbatter del Londra contro i fianchi del vascello, si decise uscirne e prenderla a fuga prima che venissero a snidarlo. Armò le pistole, si monì di una scure e, a passo silenzioso, piano piano, si spinse fino al ponte ove arrestossi soffocando a stento una bestemmia. A prua vegliavano attorno a un fuoco sei o sette selvaggi ubriachi, instupiditi, assonnati, sostenendosi a malapena sulle zagaglie, e per ogni dove gli altri papuasi, non meno ubriachi, rimpinzati di carne e, orribile a dirsi, di carne umana, ammucchiati gli uni sugli altri, mescolati confusamente coi cadaveri guazzanti nel sangue coagulato. In mezzo teste umane rosicchiate, vuotate, braccia arrotolate, gambe sanguinolenti o carbonizzate, femori, intestini, polmoni, costole ammucchiate o disperse, e ossami spezzati e succiati, avanzi di un abominevole banchetto, era tutto quello che restava del disgraziato equipaggio dell'Harlem. Il capitano Van Norden, inorridito, non fu che a gran stento che frenò l'ira e l'indignazione per non dare all'allarme. Scivolò lungo le murate e, approfittando delle tenebre, si calò in una delle imbarcazioni di bordo, galleggianti ai fianchi del vascello, munita da albero, vela e remi e carica d'ogni ben di Dio che i selvaggi contavano di spedire per la prima al villaggio. Possedeva una bottaletta, il vento era propizio. Spiegata la randa, abbandonò la povera nave, allontanandosi al nord, troppo felice ancora di averla scampata bella. All'indomani aveva perduto di vista l'Harlem e il suo abominevole equipaggio, navigando al nord-est cercando di raggiungere le isole Vaigiu o Salviati, le sole che potessero offrirgli un rifugio. Navigò per un mese, lottando con energia sovraumana, da solo a solo, costretto a valersi del solo vento e vegliare dì e notte, finché gli fu dato di vedere un'isola che credette Missouri, situata all'imboccatura della baia di Gilvin, ma non ardì che a prodare per poche ore. Ricominciò intrepidamente la navigazione e sette giorni dopo, dopo di essere scampato venti volte alle tempeste, agli scogli, ai pesci cani, sfinito, morente di fame e di sete, giunse alla sospirata Vaigiu. Fu ancora tanto fortunato da trovare un vascello olandese, occupato alla pesca del trepang, i cui marinai l'accolsero a braccia aperte, cercando far di tutto per rimetterlo in forze. Egli rimase all'isola fino al termine della pesca, dopodiché, imbarcato a bordo del legno, dopo un viaggio dei più felici, giunse sano e salvo e completamente ristabilito a Batavia. Oggi il capitano Van Norden ha abbandonato per sempre la via del mare e, ricco per i denari dell'assicurazione, vive tranquillamente in una vasta fattoria, situata sulle ride del Tiliwong, occupandosi esclusivamente delle piantagioni di caffè che lo arricchiscono ogni giorno di più.